La finalissima di tale e quale show si è conclusa con la grande vittoria di Federico Angelucci Il simpatico concorrente si è aggiudicato la vetta grazie soprattutto all'intervento del pubblico, che gli ha concesso il 25% dei voti totali L'ultima puntata del programma di Carlo Conti non ha deluso le attese, grande intrattenimento, musica e svago Leonardo Pieraccioni ha impreziosito la squadra dei giurati, oscurando persino la ver comica di Giorgio Panariello È stata una serata di esibizioni intense ed emozionanti. Angelucci ha agganciato il primo posto in classifica con l'interpretazione straordinaria di Andrea Bocelli In seconda posizione ritroviamo Alessandra Drusian con la prova magnifica nei panni di Fiorella Mannoia, terzo piazzamento invece per Antonio Mezzancella e il suo biaggio Antonarci Si può dire che il podio, alla fine, abbia messo d'accordo tutti o quasi, con il pubblico che inevitabilmente ha inciso in maniera considerevole sulla graduatoria finale, facendo scivolare, ad esempio, Lexi Enagresti in classifica Quest'ultima detta dei giurati era invece da considerare come la vera rivelazione del torneo Tale quale show, 30.000 euro per il vincitore, ecco la classifica finale.Federico Angelucci assoluto protagonista a tale quale show, con la sua performance in Andrea Bocelli ha coronato un percorso straordinario su Rai 1 in questo torneo Per lui un meritato bagno di folla al momento dell'annuncio della vittoria, ma anche un corposo premio da 30.000 euro che donerà ad uno o lus Qualche rimpianto ma anche tanta soddisfazione per Alessandra Drusian e Antonio Mezzancella, rispettivamente secondi e terzi in classifica Il resto della graduatoria è così composto, partendo dal dodicesimo posto al quarto, Alessia Macari, Vladimir Luxuria, Giovanni Vernia, Annalisa Minetti, Andrea Agresti, Massimo Di Cataldo, Valeria Altobelli, Filippo Bisciglia e Roberta Bonanno A nostro avviso avrebbe meritato qualche punto in più la Iena Andrea Agresti e molto probabilmente anche l'ex conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia, sempre su livelli straordinari in tutte le sue imitazioni Tale quale show, Alessandra Drusian e la rivincita dei Giallis.Ai vertici della classifica di tale quale show, subito dopo il vincitore Federico Angelucci, abbiamo Alessandra Drusian La ragazza dei Giallis si è presa una bella rivincita con questo programma, consolidandosi per quasi tutte le puntate nei piani alti della graduatoria Ha mostrato grandi capacità imitative, ma anche un discreto talento dal punto di vista cannoro Nella puntata di ieri sera è forse stata la migliore con la sua interpretazione di Fiorella Mannoia Gli stessi giurati sono rimasti sconvolti dalla somiglianza con la famosa artista, dunque va detto che il podio di Alessandra è indiscutibile e ampiamente meritato Lineare nel suo percorso tale quale show, si è sempre esibita ad altissimi livelli Ha perso la vetta per un pugno di voti ma insieme ad Antonio Mezzancella si è giocata la vittoria fino alla fine Chissà che non possa rilanciarsi in un futuro non troppo lontano.… Tale e quale show, social in delirio per Federico Angelucci Fan in delirio dopo la vittoria di Federico Angelucci a tale quale show. Dopo l'annuncio del primo posto in classifica, i suoi follower si sono precipitati sulla pagina Facebook ufficiale del programma per congratularsi con il proprio idolo Bravo Federico, scrive un utente, la tua vittoria è meritatissima. Alcuni ricordano la dolorosa sconfitta al photo finish nell'edizione dello scorso anno con Marco Carta, Angelucci è stato grande, si è semplicemente ripreso la vittoria che gli avevano strappato nel precedente torneo E ancora, qui abbiamo un artista di spessore, un artista completo. Quando Conti ha fatto il suo appello ai produttori credo si riferisse proprio a Federico Tante attestati di stima per il nuovo vincitore di tale quale show, per Federico Angelucci ci sarà un nuovo inizio nel mondo della musica e della televisione? I fan glielo augurano col cuore il mano Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like